L'entusiasmo che ci mette tutta la città è visto proprio dalla nuova generazione, speriamo di farli crescere con sta samba nel cuore e che vedano le partite vere e le partite grandi allo stadio a Rivela delle Palme. Cosa avete consegnato oggi nel dettaglio? Abbiamo consegnato dei materassini per i ragazzi per fare ginnastica in palestra, qui alla palestra, la dirigente aveva avuto questa richiesta e noi l'abbiamo fatta direttamente con la Sammettese perché è la Sammettese che aiuta tutte queste iniziative, soprattutto scolastiche, sport e scuola è un binomio perfetto. E' fantastico, oggi firmare ai bambini la bandiera o la maglietta o la sciarga, la fa per tutti noi, per i giocatori, ma anche i magazzinieri hanno dato il loro tocco, però la genuinità del bambino è la cosa che ti prende il cuore. Per chiudere, ieri è stato questo incontro a Roma anche con la Bede, come avete lui questa samba e se avete avuto anche modo di parlare un attimino di queste ultime situazioni arbitrali che hanno visto protagonista la sua squadra? Devo dire che forse grazie a voi, grazie ai social, a tutto quanto, bene o male a Roma mi conoscevano tutti e anche a Bede mi ha fatto i complimenti perché mi ha detto che aveva visto la partita. Dopo ho parlato un po' con il designatore degli arbitri che si era studiato il rigore e aveva chiamato l'arbitro, però non vi dico altro.